Allora, presentaci un attimino del gruppo, so che manca qualcuno. Sì, ci scusiamo ma purtroppo per motivi di salute il bassista è assente e speriamo che si rimetta presto. Grazie. Allora, io mi chiamo Francesca e qui al microfono con me c'è Silvia, alla chitarra Francesco, alla batteria Marco e alla tastiera Fabio. Prova. 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 No, va la tastiera. Eccolo. Via. Quanto problema, non è mai questo. Nel primo brano vi presentiamo Sweet Home Chicago, una canzone di Blues Brothers, una canzone un po' non nuova che sicuramente avete sentito da qualche parte alla radio. Allora, i n'editi. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.